Eccoci con Tredicini, capitano della Gavese ti vado a chiedere innanzitutto un commento sulla gara, capitano. Abbiamo giocato bene, però anche gli avversari erano tosti. Senti, se invece ti chiedessi cosa pensi che alla fine è mancato per non ottenere il risultato? È mancata un po' di grinta, perché loro ce l'hanno messa di più. Forse oltre la grinta, che sicuramente loro ci sono impegnati, ma per me anche voi, come dicevo, anche al portiere, forse anche perché eravate pochi quest'oggi, magari pochi ricambi. Sì, di cambi avevamo un portiere e un difensore. Quindi avete giocato un'ora voi e vi siete anche un po' staccati. Comunque siete stati bravissimi, ho visto tanta grinta. Senti, sei fiducioso magari per le prossime gare? Sì. Un'ultima domanda che ti vado a chiedere. Pensi invece se c'è qualcosa in campo che ha funzionato quest'oggi? Sì, abbiamo fatto tanti passaggi e siamo arrivati in porta bene. Quindi tutto quello che vi chiede il mister l'avete fatto? Sì. Guarda, ancora bravo capitano e grazie. Ciao.